Benvenuti, avventurieri digitali, a un viaggio entusiasmante nel mondo dei giochi di ruolo online più straordinari del 2023. In un universo digitale in costante evoluzione, gli appassionati di giochi di ruolo hanno sempre fame di nuove avventure, mondi incantevoli e sfide epiche. Quest'anno, siamo qui per esplorare le terre lontane e i regni incantati di 10 esperienze di gioco multiplayer che hanno catturato l'immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo. Dalla magia avvolgente alle epiche battaglie in tempo reale, ci immergeremo nelle profondità di mondi fantastici e scopriremo i segreti dei giochi di ruolo online che hanno definito il 2023. Preparatevi per un'analisi approfondita, una grafica spettacolare e una dose abbondante di pura eccitazione. Senza ulteriori indugi, preparatevi a scoprire i 10 migliori giochi di ruolo online del 2023. Lasciate che l'avventura abbia inizio. Star Wars, The Old Republic è un M.O.R.P.G. di ruolo ambientato nell'universo di Star Wars. Il gioco è stato sviluppato da Bioware e pubblicato da Electronic Arts. È stato rilasciato nel 2011 e ha ricevuto un'accoglienza positiva dalla critica. Star Wars, The Old Republic è ambientato nell'era dell'Old Republic, circa 3.000 anni prima degli eventi della trilogia originale di Star Wars. In questo periodo, la galassia è divisa tra la Repubblica Galattica e l'Impero Sith. I giocatori possono scegliere di unirsi alla Repubblica o all'Impero, e di seguire una delle otto classi disponibili. Jedi Consular, Jedi Knight, Smuggler, Trooper, Bounty Hunter, Sith Inquisitor, Sith Warrior, Agent. Storia. La storia di Star Wars, The Old Republic è divisa in due fazioni, la Repubblica e l'Impero. Ogni fazione ha una storia principale di 50 livelli, oltre a una serie di storie secondarie. La storia principale della Repubblica segue un Padawan Jedi che deve impedire all'Impero di conquistare la galassia. La storia principale dell'Impero segue un apprendista Sith che deve guadagnarsi il favore del suo maestro. Il combattimento di Star Wars, The Old Republic è un sistema di combattimento in tempo reale con tre attacchi principali. Attacco leggero, attacco pesante e abilità. I giocatori possono anche usare le abilità speciali delle loro classi per infliggere danni o buffare i loro alleati. Star Wars, The Old Republic offre una varietà di attività da svolgere, tra cui. Esplorazione. I giocatori possono esplorare i pianeti della galassia, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Star Wars, The Old Republic è un M.O.R.P.G. ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i fan di Star Wars che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online. Black Desert Online è un M.O.R.P.G. d'azione sviluppato da Powerbess e pubblicato da Kakao Games. È stato rilasciato nel 2014 ed è disponibile su PC, console e dispositivi mobili. Black Desert Online è ambientato nell'immaginario continente di Kalfion. Il continente è diviso in diverse regioni, ognuna con la sua propria cultura e storia. I giocatori possono scegliere di creare un personaggio di una delle cinque classi disponibili. Warrior, Ranger, Sorceress, Valkyrie, Witch. Ogni classe ha le sue proprie abilità e stili di combattimento. La storia di Black Desert Online è ambientata in un mondo in cui la magia e la tecnologia coesistono. I giocatori possono scegliere di seguire la storia principale o di esplorare il mondo di gioco a proprio piacimento. Il combattimento di Black Desert Online è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Black Desert Online offre una varietà di attività da svolgere, tra cui, esplorazione. I giocatori possono esplorare il continente di Calphion, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Black Desert Online è noto per la sua grafica realistica e dettagliata. Il gioco utilizza un motore di gioco proprietario che consente di creare paesaggi e personaggi realistici. Black Desert Online è un gioco costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, tra cui nuove classi, nuove zone, nuove missioni e nuovi eventi. Black Desert Online è un MORPG d'azione ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online realistica e coinvolgente. Black Desert Online è un ottimo MORPG d'azione che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e realistica. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online ricca e completa. Albion Online è un MMORPG sandbox sviluppato da Sandbox Interactive e pubblicato da Sandbox Interactive GmbH. È stato rilasciato nel 2017 ed è disponibile su PC, Macless e Linux. Albion Online è ambientato in un mondo fantasy in cui i giocatori possono creare e distruggere il mondo a proprio piacimento. Il mondo è diviso in diverse regioni, ognuna con la sua propria cultura e storia. I giocatori possono scegliere di creare un personaggio di una delle 15 classi disponibili. Battlemage, Dark Knight, Dodger Spell, Druid, Guardian, Holy Knight, Hunter, Mage, Ranger, Revenant, Raig, Scholar, Templar, Warrior. Ogni classe ha le sue proprie abilità e stili di combattimento. La storia di Albion Online è ambientata in un mondo in cui la magia e la tecnologia coesistono. I giocatori possono scegliere di seguire la storia principale o di esplorare il mondo di gioco a proprio piacimento. Il combattimento di Albion Online è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Albion Online offre una varietà di attività da svolgere, tra cui, esplorazione, i giocatori possono esplorare il mondo di Albion, completando missioni e trovando segreti. Combattimento, i giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting, i giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione, i giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Ha un'economia completamente gestita dai giocatori. I giocatori possono commerciare, produrre e vendere oggetti e attrezzature. È un gioco costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, tra cui nuove classi, nuove zone, nuove missioni e nuovi eventi. Albion Online è un MMO RPG sandbox ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online unica e stimolante. Pro. Ambiente sandbox unico. Combattimento fluido e coinvolgente. Ampia gamma di contenuti. Economia dinamica. Contro. Può essere impegnativo per i principianti. Potrebbe essere necessario un PC potente per giocare. Alcuni giocatori potrebbero trovare il combattimento troppo frenetico. Albion Online è un ottimo MMO RPG sandbox che offre un'esperienza di gioco unica e stimolante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online diversa da tutto il resto. È un gioco gratuito, ma offre un modello di monetizzazione basato su microtransazioni. I giocatori possono acquistare oggetti cosmetici, pacchetti di risorse e altri oggetti per migliorare la loro esperienza di gioco. Albion Online è un gioco online multiplayer, ma offre anche una modalità offline per i giocatori che vogliono giocare da soli. La modalità offline consente ai giocatori di esplorare il mondo di Albion, completare missioni e combattere contro nemici NPC. È un gioco in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. RuneScape è un MMORPG free-to-play sviluppato da Jagex e pubblicato da Jagex Games Studio. È stato rilasciato nel 2001 ed è uno dei MORPG più longevi di tutti i tempi. RuneScape è ambientato nel mondo fantasy di Gelenor, un mondo vasto e diversificato. Il mondo è diviso in diverse regioni, ognuna con la sua propria cultura e storia. I giocatori possono scegliere di creare un personaggio di una delle quattro razze disponibili. Umano, elfo, nano, gnomo. Ogni razza ha le sue proprie abilità e stili di combattimento. La storia di RuneScape è ambientata in un mondo in cui la magia e la tecnologia coesistono. I giocatori possono scegliere di seguire la storia principale o di esplorare il mondo di gioco a proprio piacimento. Il combattimento di RuneScape è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. RuneScape offre una varietà di attività da svolgere, tra cui esplorazione. I giocatori possono esplorare il mondo di Gelenor, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Economia. RuneScape ha un'economia completamente gestita dai giocatori. I giocatori possono commerciare, produrre e vendere oggetti e attrezzature. È un gioco costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, tra cui nuove zone, nuove missioni, nuovi eventi e nuovi oggetti. RuneScape è un MORPG ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online classica e rilassante. Caratteristiche principali. Ambientazione fantasy classica. Combattimento in tempo reale basato sulle abilità. Ampia gamma di attività da svolgere. Economia completamente gestita dai giocatori. Pro. Ambiente fantasy classico. Combattimento fluido e coinvolgente. Ampia gamma di contenuti. Economia dinamica. Contro. Grafica datata. Può essere ripetitivo per i giocatori esperti. Valutazione. RuneScape è un ottimo MORPG classico che offre un'esperienza di gioco di ruolo online rilassante e coinvolgente. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo online gratuito e facile da imparare. È un gioco gratuito, ma offre un modello di monetizzazione basato su microtransazioni. I giocatori possono acquistare oggetti cosmetici, pacchetti di risorse e altri oggetti per migliorare la loro esperienza di gioco. È un gioco online multiplayer, ma offre anche una modalità offline per i giocatori che vogliono giocare da soli. La modalità offline consente ai giocatori di esplorare il mondo di Gelenor, completare missioni e combattere contro nemici NPC. RuneScape è un gioco in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. Guild Wars 2 è un MMORPG free-to-play sviluppato da ArenaNet e pubblicato da NCSoft. È stato rilasciato nel 2012 ed è uno dei MORPG più popolari al mondo. È ambientato nel mondo fantasy di Tyria, un mondo vasto e diversificato. Il mondo è diviso in diverse regioni, ognuna con la sua propria cultura e storia. I giocatori possono scegliere di creare un personaggio di una delle nove classi disponibili. Warrior, Ranger, Thief, Elementalist, Mesmer, Necromancer, Engineer, Guardian, Revenant. Ogni classe ha le sue proprie abilità e stili di combattimento. La storia è ambientata in un mondo in cui la magia e la tecnologia coesistono. I giocatori possono scegliere di seguire la storia principale o di esplorare il mondo di gioco a proprio piacimento. Il combattimento è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Guild Wars 2 offre una varietà di attività da svolgere, tra cui esplorazione. I giocatori possono esplorare il mondo di Tyria, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde. Chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Guild Wars 2 è un gioco costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, tra cui nuove zone, nuove missioni, nuovi eventi e nuovi oggetti. Caratteristiche principali. Ambientazione fantasy ricca e diversificata. Combattimento in tempo reale basato sulle abilità. Ampia gamma di attività da svolgere. Continuamente aggiornato con nuovi contenuti. Guild Wars 2 è un ottimo MMORPG che offre un'esperienza di gioco di ruolo online coinvolgente e gratificante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo online con una forte attenzione alla narrazione e al combattimento. È un gioco free-to-play, ma offre un modello di monetizzazione basato su microtransazioni. I giocatori possono acquistare oggetti cosmetici, pacchetti di risorse e altri oggetti per migliorare la loro esperienza di gioco. Guild Wars 2 è un gioco online multiplayer, ma offre anche una modalità offline per i giocatori che vogliono giocare da soli. La modalità offline consente ai giocatori di esplorare il mondo di Tyria, completare missioni e combattere contro nemici NPC. È un gioco in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. Lost Ark è un MMORPG d'azione sviluppato da Smilegate RPG e pubblicato da Smilegate RPG e Amazon Games. È stato rilasciato in Corea del Sud nel 2019 e in Europa e Nord America nel 2022. Lost Ark è ambientato nel mondo fantasy di Arkesia, un mondo in cui la magia e la tecnologia coesistono. Il mondo è diviso in diverse regioni, ognuna con la sua propria cultura e storia. I giocatori possono scegliere di creare un personaggio di una delle 21 classi disponibili. Ogni classe ha le sue proprie abilità e stili di combattimento. La storia di Lost Ark è ambientata in un mondo in cui i giocatori devono recuperare i frammenti dell'arca perduta, un artefatto che ha il potere di distruggere o salvare il mondo. Il combattimento è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Lost Ark offre una varietà di attività da svolgere, tra cui esplorazione. I giocatori possono esplorare il mondo di Archesia, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Lost Ark è noto per la sua grafica 3D di alta qualità. Il gioco utilizza un motore di gioco proprietario che consente di creare paesaggi e personaggi realistici. È un MORPG d'azione ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online frenetica e coinvolgente. Lost Ark è un ottimo MORPG d'azione che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e gratificante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo online con un forte focus sul combattimento e sull'esplorazione. È un gioco free to play, ma offre un modello di monetizzazione basato su microtransazioni. I giocatori possono acquistare oggetti cosmetici, pacchetti di risorse e altri oggetti per migliorare la loro esperienza di gioco. Lost Ark è un gioco online multiplayer, ma offre anche una modalità offline per i giocatori che vogliono giocare da soli. La modalità offline consente ai giocatori di esplorare il mondo di Archesia, completare missioni e combattere contro nemici NPC. È un gioco in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. Final Fantasy XIV, Endwalker è la quarta espansione di Final Fantasy XIV, un M.O.R.P.G. sviluppato e pubblicato da Square Enix. È stato rilasciato il 23 novembre 2021. Endwalker è ambientato nel mondo di Idelin, un mondo di fantasia in cui la magia e la tecnologia coesistono. Il gioco inizia con i giocatori che devono affrontare la minaccia del Meteion, un'intelligenza artificiale che minaccia di distruggere il mondo. La storia è una conclusione della storia principale di Final Fantasy XIV. I giocatori devono viaggiare attraverso il mondo di Idelin e oltre per fermare il Meteion e salvare il mondo. Il combattimento è simile a quello dei precedenti giochi di Final Fantasy XIV. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Endwalker offre una varietà di attività da svolgere, tra cui, esplorazione, i giocatori possono esplorare il mondo di Idelin, completando missioni e trovando segreti. Combattimento, i giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting, i giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione, i giocatori possono unirsi a Gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Utilizza un motore di gioco aggiornato che consente di creare paesaggi e personaggi più realistici. Endwalker introduce una serie di nuovi contenuti, tra cui, un nuovo continente, Ultima Thule. Un nuovo livello massimo, 90. Un nuovo sistema di combattimento, Sage. Un nuovo sistema di progressione, Endwalker Relic. Endwalker è un'espansione ricca e coinvolgente che offre una conclusione soddisfacente alla storia principale di Final Fantasy XIV. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online epica e coinvolgente. È un ottimo MORPG che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e gratificante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo online con una forte attenzione alla narrazione e al combattimento. È un'espansione a pagamento. I giocatori devono possedere il gioco base e le espansioni precedenti per giocare. È un gioco online multiplayer. I giocatori devono avere una connessione internet per giocare. Endwalker è in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. The Elder Scrolls Online è un MORPG sviluppato da Zenimax Online Studios e pubblicato da Bethesda Softworks. È stato rilasciato il 4 aprile 2014. È ambientato nel mondo di Tamriel, un mondo fantasy in cui la magia e la tecnologia coesistono. Il gioco è ambientato durante la Quarta Era, 200 anni dopo gli eventi di Skyrim. È una storia epica che coinvolge i giocatori in una lotta per il destino di Tamriel. I giocatori devono affrontare una serie di minacce, tra cui Daedra, i Talmor e i Signori Vampiri. Il combattimento di The Elder Scrolls Online è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. The Elder Scrolls Online offre una varietà di attività da svolgere, tra cui Esplorazione. I giocatori possono esplorare il mondo di Tamriel, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. The Elder Scrolls Online utilizza un motore di gioco aggiornato che consente di creare paesaggi e personaggi realistici. È un gioco costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, tra cui nuove zone, nuove missioni, nuovi eventi e nuovi oggetti. È un M.O.R.P.G. ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo online epica e coinvolgente. È un ottimo M.O.R.P.G. che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e gratificante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo online con una forte attenzione alla narrazione e al combattimento. È un gioco a pagamento. I giocatori devono acquistare il gioco base e le espansioni per giocare. The Elder Scrolls Online è un gioco online multiplayer. I giocatori devono avere una connessione internet per giocare. The Elder Scrolls Online è in continua evoluzione. Gli sviluppatori rilasciano regolarmente nuovi contenuti e aggiornamenti per il gioco. The Elder Scrolls Online ha ricevuto sette espansioni. Ogni espansione introduce nuove zone, nuove missioni, nuovi oggetti e nuove funzionalità. World of Warcraft è uno dei giochi di ruolo online multiplayer più iconici e influenti al mondo. Sviluppato e pubblicato dalla Blizzard Entertainment, è stato lanciato per la prima volta nel 2004 e ha rapidamente guadagnato una vasta base di fan in tutto il mondo. Il gioco si svolge nel mondo immaginario di Azeroth, un regno fantasy ricco di razze diverse, luoghi incantevoli e storie avvincenti. I giocatori possono scegliere di interpretare una delle molte razze giocabili, tra cui umani, elfi notturni, orchi, tauren, non morti e molti altri, e selezionare una classe come guerriero, mago, sacerdote, ladro, stregone, paladino e così via. Ogni classe ha abilità uniche e stili di gioco, consentendo ai giocatori di personalizzare l'esperienza in base ai propri gusti. Una delle caratteristiche distintive è il suo sistema di livellamento, in cui i giocatori completano missioni, affrontano nemici, esplorano dungeon e interagiscono con altri giocatori per guadagnare esperienza e aumentare di livello. Il gioco offre anche un'ampia gamma di attività multigiocatore, tra cui raid, dungeon, arena e battleground, dove i giocatori possono collaborare o competere contro gli altri. Oltre al suo ricco contenuto PvE, offre anche una componente PvP robusta, consentendo ai giocatori di sfidarsi l'un l'altro in combattimenti epici. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerose espansioni che hanno introdotto nuovi contenuti, nuove razze, nuove classi e nuove aree da esplorare, mantenendo così il gioco fresco e avvincente per i giocatori di lunga data e attirando nuovi giocatori. Con una comunità attiva e devota, continua a essere uno dei giochi di ruolo online più popolari e influenti al mondo, contribuendo in modo significativo a plasmare il panorama dei giochi online multiplayer. Baldur's Gate 3 è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Lerian Studios e pubblicato da Wizards of the Coast. È stato rilasciato in accesso anticipato il 6 ottobre 2020 e uscirà in versione completa nel 2023. È ambientato nel Faerun, un mondo fantasy di Dungeons & Dragons. Il gioco è ambientato nella regione di Baldur's Gate, una città stato situata sulla costa sud-occidentale del Faerun. La storia inizia con i giocatori che si risvegliano in una nave affondata sulla costa di Baldur's Gate. I giocatori scoprono che sono stati infettati da un'antica maledizione che li trascorma in Mind Flayers, creature aliene che infestano il cervello dei loro ospiti. I giocatori devono trovare un modo per fermare la maledizione e salvare il Faerun. Il combattimento di Baldur's Gate 3 è un sistema di combattimento in tempo reale basato sulle abilità. I giocatori possono usare una varietà di abilità per infliggere danni ai nemici. Il gioco presenta anche un sistema di dialogo dinamico che consente ai giocatori di interagire con il mondo di gioco in modo più coinvolgente. Offre una varietà di attività da svolgere, tra cui Esplorazione. I giocatori possono esplorare il mondo di Baldur's Gate, completando missioni e trovando segreti. Combattimento. I giocatori possono combattere contro nemici NPC o altri giocatori. Crafting. I giocatori possono creare oggetti e attrezzature usando le loro abilità di crafting. Socializzazione. I giocatori possono unirsi a gilde, chattare con altri giocatori e partecipare a eventi sociali. Baldur's Gate 3 utilizza un motore di gioco proprietario che consente di creare paesaggi e personaggi realistici. È un gioco di ruolo d'azione ricco e coinvolgente che offre una vasta gamma di contenuti. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di ruolo coinvolgente e gratificante. Baldur's Gate 3 è un ottimo gioco di ruolo d'azione che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e gratificante. Il gioco è un'ottima scelta per i giocatori che cercano un gioco di ruolo d'azione con una forte attenzione alla narrazione e al combattimento. È un gioco in accesso anticipato. Ciò significa che il gioco non è ancora completo e che gli sviluppatori stanno ancora lavorando su di esso. È un gioco online multiplayer. I giocatori possono giocare insieme a un massimo di tre amici. Grazie per esserti unito a noi in questa avventura, e che i tuoi giorni siano sempre pieni di epiche avventure e incredibili trionfi. Buon gioco e buona fortuna!